Signore e signori, buongiorno. Oggi è il... non l'ho guardato che giorno è? Il 18? Può essere? Ah, non lo so. Vabbè, circa, magari lo scrivo. Siamo a Bologna, questa è Porta Saragossa, per fare la nostra prima Adventure Lab. Le Adventure Lab riguarda sempre il geocaching, però è un po' diverso, nel senso che si va con il telefono, bisogna entrare in raggio con il GPS, insomma, poi vengono fuori delle domande, delle cose, non lo so, non l'abbiamo mai fatto, quindi lo scopriremo oggi vivendo. Però, visto che siamo qua, per prima cosa cerchiamo due cache fisiche, che sono una qui appunto dalla porta e una poco più avanti. Questa qui, questa dalla porta, fa parte della stessa serie di cache delle porte di Bologna. Ti ricordi quando mille mila anni orsono, con la mia omonima Sicula, quando ancora bazzicava questi luoghi, andammo a fare alcune cache appunto delle porte di Bologna? Sì. Sì, può dare. Comunque, vi metto il link qui sopra a quel video in cui andammo a cercare quelle cache. Porta Saragossa appartiene alla terza e più recente cerchia di mura della città di Bologna, la circla. Costruita intorno al XIII secolo, la cerchia correva tutto intorno al perimetro della città, in corrispondenza di quelli che ora sono i viali. Questa cinta muraria, di cui ora ci rimangono solo le porte e alcuni brevi tratti di muro, si estendeva per più di 7 chilometri ed era circondata da un fassato sull'esterno. Porta Saragossa fu edificata per la prima volta nel XIII secolo e nel 1334 fu dotata di ponte elevatoio. Per molti anni fu considerata un varco secondario e solo a partire dal 1674, quando venne costruito il lunghissimo portico che dalla porta conduce fino al santuario della Madonna di San Luca, Porta Saragossa acquisì particolare rilievo, utilizzata come punto di partenza per le processioni verso il santuario. Travata! Questa c'è logbook nuovo nuovo, la vogliamo. Quest'altra cache, siamo a pochi metri in realtà dalla porta, è la prima della serie Bologna Crime, che è una serie nuova, l'hanno messa la scorsa estate. Questa nello specifico è omicidio dell'orefice Rava. Bologna Crime è una serie di cache posizionate nei luoghi dove sono avvenuti i patti criminosi nella storia di Bologna. Via Saragossa 63. Perché sono qua, no? Quindi è 63 G, quindi... Sabato pomeriggio del 6 dicembre 1930. L'orefice Gaetano Rava si appresta ad aprire il suo negozio per preparare la vetrina natalizia. Tra l'altro qui sopra abbiamo delle cose natalizie. Quel pomeriggio entrano due ragazzi vestiti elegantemente. Il più giovane dei due aveva ordinato qualche oggetto da regalo, mentre l'altro se ne stava sulla soglia della porta. Il giovane dei modi gentili stava trattando per l'acquisto di alcuni articoli, ma improvvisamente la gentilezza svanì e l'orefice si ritrovò di fronte ad un rapinatore. Non era la prima volta che Gaetano Rava aveva ricevuto delle minacce armate e con un rapido gesto aveva afferrato la canna del revolver per cercare di strapparlo dalle mani del rapinatore. Fu una lotta rapida dove intervenne anche il socio del rapinatore e subito partirono due colpi. Rava cadde a terra e i due malviventi scapparono, scomparendone il nulla. Dopo alcuni minuti un cliente entrò in negozio e non vedendo l'orefice era tornato fuori, chiedendo ad alcuni del posto, «Avete visto il signor Rava? Non c'è il negozio? No!» era stata la risposta. «Strano!» dissero i negozianti vicini. «Non lo abbandona mai!» Al cliente si erano giunte altre persone che una volta entrate nel negozio scoprirono l'orefice dietro al bancone, in un lago di sangue. Avvisata la polizia, il primo ad accorrere era stato il maresciallo Petti, un uomo che conosceva la zona e che poco dopo si era precipitato con la sua auto alla ricerca dei due criminali. Vicino alla certosa, ad un incrocio, notò due giovani che correvano e di tanto in tanto si guardavano alle spalle. Il maresciallo li raggiunse e notò che sbiancarono in viso. Li fece ammalettare e perquisire. In tasca di uno dei due vennero trovate tre catenine d'oro, un braccialetto d'oro massiccio e nella tasca dell'altro un portafoglio contenente 2300 lire. I due furono immediatamente condotti in questura. I due assassini si erano incontrati in una casa di tolleranza e avevano stretto amicizia. Ai primi di dicembre si erano ritrovati senza soldi e così decisero di ripiegare su una rapina. I due si resero rei confessi e al processo tentarono di scagionarsi, incolpandosi a vicenda. Nel corso dell'indagine purtroppo l'orefice morì, aggravando la posizione dei due e il pubblico che assistette al dibattito invocò la pena di morte. Ma tutto finì con una pesante condanna al carcere per entrambi. Provata anche questa. Ora andare a recuperare il logbook originale che è lì sotto è praticamente impossibile. Comunque ho recuperato il fogliettino che hanno messo qui sopra. Manca il tappo. Ed è ora. Siamo di nuovo dalla porta. C'è anche un piccione che si pulisce. C'è un piccione che si pulisce. E' ora di cominciare con l'Adventure Lab che è il portico più lungo del mondo e San Luca. Avviamo. La prima tappa di questa Adventure Lab è l'arco Bonaccorsi. State per cominciare un'avventura che vi farà percorrere il porticato più lungo del mondo, quello di San Luca, che misura 3.796 metri e consta di 666 archi. Si dice rappresenta il serpente, ovvero il demonio, la cui testa viene schiacciata dalla Madonna simboleggiata dal santuario. Parte dall'arco Bonaccorsi a Porta Saragozza e conduce fino alla cima del Colle della Guardia dove si eleva il celebre santuario della Madonna di San Luca. In totale saranno 230 metri di ascesa totale. Buon divertimento! L'arco Bonaccorsi è quello lì dove c'è il manifesto per Patrick Zaki. Poveretto! È stato più difficile del previsto perché a Porta Misere bisogna essere proprio nel punto preciso esatto. Il GPS ovviamente non è che è proprio preciso esatto, tende a zompare un pochettino da una parte all'altra. Comunque ce l'ha fatta. È arrivata, insomma, quando si arriva nel punto esatto, arriva una domanda, bisogna rispondere alla domanda e se la risposta è giusta viene segnato come fatto e si passa alla prossima tappa. La prossima tappa è sempre lungo il portico che è là. Adesso abbiamo girato un attimo giù per questa strada perché c'è un'altra cache qui poco più avanti e proviamo a cercare anche questa. Questa geocache fa parte del Geo Trail Porto. Sarebbe la numero 6. Noi non l'abbiamo mai fatto il Geo Trail Porto perché è parecchio lungo poi va un po' in centro. Villini Liberty si chiama. Ben arrivati alla sesta tappa del Geo Trail Porto. Avete superato i confini della cinta muraria del 300 che delimita il centro città e attraversato i viali di circonvalazione incrociando la tangenziale delle biciclette. Siete in via Odinò. Come si legge? A Odinòt. Sì, sì. Vi trovate in un'elegante aree alberata in cui si susseguono villini con decorazioni floreali e geometriche, lavorazioni in ferro battuto di cancelli e balconi in stile Liberty. Insediamento di strisce di piastrelle decorate sulla facciata. Devo riprendervi? Sì. Alcune abitazioni sono opera dell'architetto Paolo Sironi. In via Rodolfo Odinò 2 che questo è il numero 28 quindi sarà molto più giù, non lo so. Si trova un'abitazione su due piani con torretta sormontata da una graziosa in feriata opera della ditta Fratelli Mingazzi. Al numero 8 della stessa strada è collocata una graziosa villetta a due piani con decorazioni a girasoli dipinti sotto il cornicione. Ho capito? Al numero 9 vi ha una caratteristica abitazione a tre piani in cui spiccono i colori verde e blu delle piastrelle ceramicate poste sotto i cornicioni. E questa l'ha trovata Claudio! Bravo Claudio! Vabbè, era una di queste qui e sono andato avanti per primo. Vabbè, l'hai trovata tu, tecnicamente l'hai trovata tu. Ho corso avanti per trovarla. Hai corso avanti per trovarla! C'è proprio come un bimbo minchia, no? Sì, così, oggi una la trovo anch'io. Lungo il portico hanno messo un sacco di disegni di persone condannate e arrestate per aver difeso la libertà e i diritti umanitari fondamentalmente. E siamo alla seconda tappa dell'Adventure Lab, cioè la statua della Madonna grassa. È situata nell'arco 170 ed è opera di Andrea Ferreri, 1706. I lavori per la costruzione dell'arco e della nicchia che la contiene furono pagati dal marchese Francesco Maria Monti Bendini. L'opera è composta dalla Madonna con il bambino sorretto sul braccio sinistro. L'imponente della statua e il ricco panneggio classicheggiante l'hanno portata ad essere definita come Madonna grassa. Ah, non perché cucciona! Nel basamento è inciso il verso Tunos aboste protege o protege, come si legge? Protegge. Proteggici dal nemico. Abbiamo fatto un'altra piccola deviazione dal portico di San Luca e di via Saragozza e siamo venuti qui nel parco del Barone Rampante, si chiama, perché c'è un'altra cache che fa sempre parte del Geotrail Porto, è la numero 7 e si chiama appunto Barone Rampante. Il problema è che dunque la cache l'ho già addocchiata e è qui dietro di noi però è tanto in alto c'è bisogno del tuo aiuto cache recuperata da Claudio in realtà con una mossa alla MacGyver e siamo, abbiamo continuato con la deviazione, siamo a Villa Spada che è un'altra geocache del Geotrail Porto. Qui a Villa Spada c'ero già venuta la cache è lassù in cima dove c'è quella scultura nera non so se si vede un po' in mezzo alle piante c'ero già venuta da sola perché voi due loschi figuri mi avevate abbandonato che ero andata su a San Luca vi metto il link a quel giro che feci qui sopra e sotto nella descrizione questa cache è nascosta all'interno del parco di Villa Spada bel parco sulle primissime colline di Bologna la Villa e il Giardino all'Italiana sono stati costruiti nel Settecento da Giovanni Battista Martinetti per volere di Jacopo Zambeccari nel 1820 la Villa fu acquistata dalla Marchesa Buford sposata con il principe romano Clemente Spada Veralli che completò il complesso annettendo al parco anche l'area che attualmente costeggia via Saragossa nel 1849 divenne la sede del comando austriaco dagli anni Sessanta è proprietà del comune la Villa ora è sede del Museo della Tapesteria all'interno del parco si trova anche la biblioteca di quartiere Oriano Tassinari-Clo che è quella lì sotto dove stanno facendo dei lavori di ristrutturazione trovata! abbiamo ripreso l'Adventure Lab e siamo arrivati all'arco del Meloncello dove c'era la terza tappa abbiamo già risposto alla domanda e andiamo stiamo andando su per San Luca siamo alla curva delle Orfanelle e qui c'era una cache che l'altra volta quando ero venuta da sola non avevo trovato ma stavolta sì mi rito tuo mio non ho neanche cercato e abbiamo trovato anche la quarta tappa adesso bisogna andare in cima alla chiesa siamo quasi in cima e siamo arrivati in cima e abbiamo completato l'Adventure Lab quindi adesso tecnicamente possiamo andare a cercare la Bonus Cash che è un pochino più avanti per la cronaca è da Porta Saragozza che praticamente siamo sulla Via degli Dei perché questa è la Via degli Dei effettivamente sembra che sono un pochettino ossessionata dalla Via degli Dei non facciamo altro praticamente e niente la Bonus Cash doveva essere qui anzi sarà qui all'inizio del Sentiero dei Bregoli che praticamente è la Via degli Dei che prosegue verso il Parco Talon però boh non l'ho trovata dovrebbe essere una mimetica pesa ma boh così è il portico prima di essere restaurato e così invece è durante il restauro così invece è il restauro finito tutto bello, splendente e luccicante siamo ormai arrivati alla macchina vi metto le statistiche di Rantastic in 3, 2, 1 di Rantastic in 3, 2, 1 dalla fuori via che è stata pronta dovrebbe essere la da quei parti e da san luca dalla due giornate tutto quanto è tutto